Ma oggi un'altra tegola è arrivata a Chieti, cioè un sovraffollamento e anche in pratica proprio un ingorgo nella zona del Palatricalle dove si fanno i tamponi. C'è andato per noi Luca Pompei che adesso ci fa un po' il resoconto di questa mattinata complicata. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, ci è arrivata questa segnalazione, noi subito siamo andati a verificare e abbiamo trovato appunto questa situazione. Vi faccio vedere rapidamente questa la colonna di macchine e di automobili in attesa di effettuare il tampone al Palatricalle di Chieti. Una fila interminabile. Perché questo disagio? Perché questa mattina improvvisamente c'è stato un grande afflusso di bambini e di maestre che hanno avuto in qualche modo la precedenza alla luce dei tanti casi che si stanno registrando, i casi di contagio che si stanno registrando nelle scuole. Quindi in qualche modo è stata data la precedenza a queste persone. C'era chi aveva prenotato il tampone e ha dovuto aspettare anche diverse ore. Noi siamo arrivati intorno alle 11.30 e abbiamo ascoltato una signora che era lì addirittura dalle 8.30. I volontari del 118, gli operatori, hanno assicurato a tutti che non ci sarebbe stato nessun rinvio dei tamponi e che quindi in mattinata avrebbero completato i tamponi. Tant'è che questa è la situazione. Marina, abbiamo ascoltato anche alcune testimonianze. In particolare una signora ci ha colpito perché aveva prenotato una cronoscopia urgente all'ospedale di Chieti. Pur avendo fatto due vaccini, avendo un green pass regolare, alla signora è stato detto di dover fare anche un tampone molecolare. Lei questa mattina si è presa un giorno di permesso al lavoro ed era lì sotto il sole, dentro la macchina, ad aspettare il suo turno. È un disagio particolarmente forte, soprattutto per una persona, ripetiamo, che ha due vaccini fatti, un green pass e per fare un esame urgente deve essere anche in possesso di un tampone molecolare. Un'altra persona, una persona anziana, ci ha detto che è da una settimana che ha 38 di febbre e aveva urgenza di fare il tampone per scongiurare un'ipotesi di contagio. Vedete, questa è la situazione, entra una macchina per volta. Noi abbiamo provato a segnalare questa cosa e prontamente è arrivato anche un comunicato della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Anche lei ha sottolineato la mancanza di organizzazione da parte dell'Asla di Chieti che non è nuova a queste problematiche. Ce ne siamo occupati anche in passato riguardo ai vaccini, ad esempio al palazzetto di Colle dell'Ara, piuttosto che alle code interminabili davanti all'ospedale di persone che dovevano esibire il green pass pur avendo degli esami urgenti. Insomma, mancanza di capacità organizzativa, da questo punto ci vorrebbe da dire, dalla Asla di Chieti, segnalata, lo ripetiamo in un comunicato anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Speriamo che nei prossimi giorni questa cosa venga definita al meglio. Sta di fatto che stamattina è bastato un semplice imprevisto, cioè quello dei tamponi a bambini e maestre, per creare questa situazione. Vediamo anche persone che discutono tra di loro. Insomma, vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà. Noi abbiamo voluto segnalare come nostro dovere ed è sulla nostra pagina Facebook. A te Marina. Grazie, grazie Luca Pompei per questo resoconto che è utile anche per i tanti che hanno segnalato questo disservizio.